Allora, buonasera a tutti. Continuo ancora con i nomi delle persone che hanno dato tanto per la festa dell'Uo. Ci sono alcuni nomi che il Presidente della Proloco già ha citato, che io avevo già... Comunque, passo e dico... Mercurio Arturo, detto Zia Arturo. Ancora Salomone Luigi, il professore. Piccirillo Antonio, Zintonucci di Santiglia. Cutillo Giacomo. Ancora Riccardo Cesare, come già è stato nominato. Ziatirio Salomone. L'architetto Filippo Donofrio. C'è ancora il nome di Don Tommaso Abbamonti. Gli Annotti Filippo, i primi carri che arrivavano da Adalese. Venditti Giuseppe. Se mi sfugge qualcuno, perdonatemi. Comunque, un applauso a tutti. Grazie. Grazie.